Ciao, eccomi tornata per raccontarvi la seconda parte del film Barbie e le mie impressioni. Eravamo rimasti con Barbie che a seguito di sani episodi che le erano successi, tra cui piedi piatti, cellulite e sensazione di depressione, tristezza, pensieri di morte, si era recata da Barbie Stramba. La Barbie Stramba è una Barbie che aveva avuto contatti strani con la sua umana, che le aveva bruciato i capelli, le aveva pittate, le faceva fare tante acrobazie, per cui continua a fare la spaccata, tutta la faccia pitturata di pennarello, come facevamo noi da piccole con le Barbie, aveva metà testa rasata, come si faceva noi da piccole con le Barbie, e l'altra con tutti i capelli arruffati, perché la sua, come spiega lei, la sua padroncina le aveva anche bruciato i capelli. Barbie Stramba spiega a Barbie che l'unico modo per risolvere la situazione è andare nel mondo reale a trovare la bambina che sta giocando con lei, la bambina che sta esprimendo tutti questi sentimenti di tristezza, perché ha aperto un portale, un portale che non va mai aperto, perché i sentimenti delle bambine non dovrebbero mai passare nel mondo di Barbie, nel mondo reale. Mentre era successo qualcosa, uno squarcio tra i due mondi, questo varco stava contagiando il mondo di Barbie, il mondo di Barbie non sarebbe più stato lo stesso se Barbie non avesse preso la decisione di andare nel mondo reale. Barbie dice, ah si può andare nel mondo reale? Certo c'è la strada, devi seguire un percorso. Barbie Stramba spiega il percorso a Barbie, e Barbie parte, inconsapevole del fatto che nello stesso momento in cui lei si trovava da Barbie Stramba, Ken, il Ken innamorato di Barbie, non la vuole lasciare andare da sola, vuole andare con lei, quindi si nasconde nella macchina. fanno viaggio insieme, finché a un certo punto si scopre che c'è Ken dietro, sraiato, sedili posteriori della macchina. È la macchina di Barbie, è ovviamente di plan. Il percorso alla fine viene completato da Ken insieme a Barbie, quindi si sale prima sulla macchina, sul camper, sulla moto, e poi con i pattini a rotelle si va, si arriva nel mondo reale. Ci sono vari passaggi con i personaggi che si fermano, tipo a campeggiare o a... Vabbè, è abbastanza divertente nel mondo reale. E qui Barbie scopre che il mondo reale non è affatto come lei lo immaginava. Lei pensava che le Barbie avessero portato un cambiamento, un'emancipazione femminile e altro, e si ritrova in un mondo maschilista, dove vengono derisi sia lei che Ken, o perlomeno soprattutto Ken perché è vestito di rosa, se non da qualcuno che gli fa i complimenti. Quindi in quel momento, nello stesso momento in cui Barbie si sente umiliata, si sente usata, si sente violata, Ken si sta invece gasando e montando, perché si sente apprezzato. Lui è in giro con lei, quindi tutti gli uomini... Lei invece viene fischiata, fatte battute, e non capisce, non capisce, non capisce. Vede un gruppo di operai, pensa che siano operaie, perché nel mondo di Barbie sono le donne che lavorano, si ferma per avere un aiuto, e invece vede che sono tutti uomini che fanno battute anche sessuali, per cui Barbie risponde tranquillamente che loro il sesso non ce l'hanno, né lei né Ken, e lì vede invece che Ken si vanta di averlo, cosa che non è vera, però lui vede che inizia a cambiare. Arrivano in città, mentre Barbie si mette su una panchina a cercare di collegarsi con la bambina che gioca con lei per poter arrivare a scoprire dove si trova e per risolvere tutto il problema e per tornare a Barbiland. Nel frattempo vengono arrestati, un paio di volte. Barbie si sente strana, non si sente capita, si sente usata, mentre Ken al contrario inizia a gongolarsi, di vedere che tutti questi uomini e tutto questo mondo dove gli uomini sono dappertutto e hanno ruoli, lavorano non come in Barbiland in cui Ken è relegato a fare il Candy Barbie. E a questo punto, vabbè, mentre Barbie, che ha capito dove sta la sua bambina, va dalla bambina, Ken va in biblioteca a informarsi. Ken va nei vari uffici, in banco o altro, inizia a vedere che ci sono solo uomini al comando, inizia a vedere che la realtà non è quella che lui conosce e questa cosa lo gasa tantissimo. Ken inizia a voler leggere, voler studiare, voler capire cos'è il patriarcato, perché scopre questo patriarcato, il potere degli uomini. E per lui è una grande rivelazione. Lui, che fino adesso era stato succube degli atteggiamenti di Barbie e non riusciva a farsi valere con Barbie, crede che in questo modo Barbie possa ammirarlo di più. Una donna addirittura gli chiede l'ora, lui rimane sconvolto perché le Barbie non hanno mai chiesto nulla ai Ken. Perché le Barbie hanno sempre fatto tutto loro, non c'è stata mai una Barbie che ha avuto bisogno di un Ken per qualcosa. Quindi lui si sente orgoglioso di questa domanda, anche se lui non ha orologi e quindi non può rispondere. Nel frattempo Barbie va alla scuola dove trova la bambina che ha visto nella sua visione. E qui la Barbie fa una scoperta stravolgente per lei, per tutto quello in cui lei crede. Non ha portato nessun beneficio. Scopre che la Barbie nel mondo reale non solo non ha portato nessun beneficio, ma ha creato uno stereotipo di donna che è bruttissimo. La donna che deve essere perfetta fisicamente, la donna che non parla, non agisce, è solo alla merce dell'uomo. E le dice alle bambine ma no, non avete capito il messaggio era tutt'altro, hanno sempre detto che il messaggio era tutt'altro. Le bambine la guardano perché non credono sia veramente Barbie, ovviamente, pensano che sia una pazza, una donna che è convinta di essere Barbie e che si e quindi si guardano tutte come di boh, questa è pazza. Quando Barbie esce dalla dalla scuola gli uomini della Mattel su questi furgoni neri sono venuti a prenderla perché qualcuno ha avvertito che si è aperto il portale e una Barbie e un Ken sono scappati. In questa parte si scopre anche che anni prima era scappata da Barbie una skipper ed era andata a trovare dei bambini, aveva fatto la babysitter e poi li aveva rapiti. Però era un episodio che è stato ben cancellato, nascosto perché si trattava di una skipper quindi nulla di importante ma in questo momento si tratta di una Barbie e di un Ken quindi la cosa è veramente rilevante i vertici di Mattel non vogliono che si sappia che esiste veramente il mordo nido di Barbie La segretaria personale dei presidenti di questi presidenti della Mattel è interpretata da America Ferrera ed è praticamente la mamma di Sasha di questa bambina qua la bambina che Barbie ha nelle sue visioni lei sente la notizia che Barbie è scappata si stupisce va a prendere la figlia a scuola ed è lì esattamente nel momento in cui caricando la figlia in macchina vede Barbie prelevata dagli uomini della Mattel Barbie è contenta di andare con loro perché pensa che loro possano risolvere il problema in uno stesso momento invece Ken quando vede che Barbie viene presa dagli uomini della Mattel decide di tornare a Barbiland con tutte le informazioni che ha accumulato sul patriarcato per cui Barbie adesso è alla Mattel l'attrice America Ferreira con la figlia la seguono trac arrivano alla Mattel nell'edificio Barbie ha una discussione capisce che il mondo è gestito dagli uomini e non dalle donne e ne rimane sconvolta cerca di scappare incontra la creatrice di Barbie Ruth Handler riesce a uscire dall'edificio incontra America Ferreira con la figlia Sasha che la fa salire sulla macchina e loro decidono di andare e lì si parlano e decidono di andare a Barbiland per risolvere il problema durante la strada cioè Barbie capisce che non è la bambina la persona che le sta trasmettendo tutti quei pensieri ma è la madre l'attrice America Ferreira che giocando con la Barbie vabbè io dico America Ferreira perché non mi ricordo il nome che aveva la mamma Gloria ecco perché mi sono segnata Gloria praticamente lei che gioca con la Barbie e lei che ha nella Barbie messo riposto tutti i momenti felici con la figlia che poi sono diventati crescendo la figlia dei momenti brutti tristi di depressione lei che ha questi pensieri è lei che ha trasferito tutti i pensieri alla Barbie quindi tornano a Barbie vanno a Barbie le porta con loro le porta con lei scusami scusate le porta con lei e quando arrivano a Barbie Barbie è completamente cambiata ed è gestita dai Ken e le Barbie la maggior parte delle Barbie tranne alcune che si sono rifugiate da Barbie Stramba tutte le altre sono manipolate da Ken è come se avessero avuto un lavaggio del cervello e poi la storia va avanti quello che a me ha fatto un po' piangere diciamo proprio scendere le lacrime mentre la direvo questo film è stata la percezione della profondità che Greta Gerwig ha messo nel film la regista perché vedendo la pubblicità del film Barbie molti avranno pensato l'ennesimo film sulla Barbie alcuni sono andati a vederla pensando che fosse Barbie così e quindi non aspettandosi il messaggio molto forte molto potente che c'è dentro non lo hanno capito non hanno visto nel film quello che si aspettavano di vedere e quindi hanno pensato che fosse una stupidata stronzata eccetera invece quello che è emerso non lo dico solo io le recensioni che ho letto o altro che nel film Barbie la prima parte che è in Barbie Land serve solo da contrasto alla seconda parte che è il mondo reale nel momento in cui tu per la prima parte Vivi in Barbie Land vedi una situazione tutta in un modo che al momento è quasi fra virgolette vabbè un po' così il film ma serve questa prima parte perché nella seconda parte quando entri nella società nella vita normale ti rendi conto veramente della differenza c'è due mondi in cui in uno la donna che comanda e in uno l'uomo che comanda due mondi opposti due mondi in cui l'altra parte è proprio di secondo piano nel mondo di Barbie sono i Ken nel mondo patriarcale nel nostro mondo sono tutte le donne per quanto abbiano dei posti di potere c'è sempre dietro un uomo che le manovra nessuna donna è lasciata con un potere senza che ci sia dietro qualcuno che lo fa uomo che lo fa per qualche motivo infatti a Ken viene ben detto a un certo punto da un uomo che non c'è più il patriarcato o meglio c'è ma lo teniamo ben nascosto quindi fanno finta che di dare un po' di potere alle donne e questa cosa insieme al discorso che fa la gloria America Ferrera riguardo quello che le donne devono fare in questa società tutto quello che ci si aspetta dalle donne ma senza che le donne se ne prendano il merito sia dal punto di vista della carriera della casa dell'estetica le donne non devono invecchiare non devono averle rughe devono sempre essere attive le donne devono sempre essere belle devono sempre essere magre ma non devono mai dire che vogliono essere magre devono dire che vogliono essere in forma non devono mai dire che non vogliono invecchiare devono dire che devono invecchiare bene non devono mai dire di essere stanche devono essere sempre disponibili la donna non deve essere grassa deve essere magra ma non magra da ostentare di far creare invidia alle altre donne deve essere bella deve essere intelligente ma fino a un certo punto non troppo perché troppo non va bene sta male la donna non deve mai prendersi i suoi meriti non è bello non sta bene la donna deve sempre fare passettine indietro anche quando è oltre e questo discorso risveglia le Barbie ma questo discorso non risveglia solo le Barbie se non sta ben attento a vedere tutto il film alla fine Barbie dopo che c'è stata la rivoluzione in Barbilen dopo che le Barbie hanno rimesso i Ken al loro posto e loro si sono riprese il loro potere ma Barbie non sta più bene Barbie non vuol più tornare in quel mondo governato dalle Barbie Barbie capisce dice che anche Ken deve avere un suo ruolo ma non è il ruolo del suo amore lei lo dichiara lei non è innamorata di Ken lei non ha bisogno di Ken ma è anche Ken non deve aver bisogno di Barbie Ken deve essere Ken Ken e Barbie c'è Ken e c'è c'è Barbie e c'è Ken non Ken dipendente da Barbie il discorso che fa lei a Ken a questo punto Barbie non si accontenta più di essere la Barbie stereotipo e vuol diventare un'umana un essere umano e vivere nel mondo degli umani a questo punto c'è un incontro con ancora con la creatrice di Barbie Ruth Handler che le dice che lei ormai è umana perché ha provato tutte le emozioni degli umani finale del film è con Barbie ma che insieme a Gloria e a Sasha Barbie vestita normale nel senso non di rosa non truccata da Barbie non con i capelli da Barbie ma vestita normalissima che deve andare a un appuntamento e si scopre che l'appuntamento è dal ginecologo Barbie è diventata donna vera a tutti gli effetti e per me questo film è bellissimo bellissimo nella sua essenza bellissimo nel fatto che ancora una volta un prodotto che doveva essere la Barbie che doveva servire alle donne per emanciparsi è stato utilizzato per rinchiudere la femmina la donna in uno stereotipo uno stereotipo che deve essere quello della donna perfetta che deve piacere agli uomini quando in realtà no perché Ken era l'uomo di Barbie ma Ken non esiste se non c'è Barbie e allo stesso tempo Ken deve vivere anche senza Barbie Barbie può vivere anche senza Ken nel mondo reale la donna può vivere senza l'uomo non deve per forza essere appoggiata ad un uomo deve poter scegliere di fare quello che vuole non deve sempre dire grazie a qualcuno deve anche prendersi merito e questo è bello anche evidenziato in una parte del film nella prima parte quando le Barbie vengono premiate dicono grazie ma me lo sono meritata nella seconda parte del film quando Ken aveva portato il cambiamento quando una Barbie vinceva qualcosa diceva grazie ma me lo merito tutto questo io ma veramente me lo merito io e Ken a me ha straziato vedere la differenza perché se nella prima parte mi sembrava un po' arrogante Barbie che dicesse ma me lo merito nella seconda parte invece mi è sembrato avvilente che Barbie dicesse no ma non me lo merito cioè a un certo punto mi sono resa conto che nella prima parte ero talmente abituata anche noi donne non ci buttiamo giù o comunque dobbiamo dire poi non tutte lo fanno ovvio ma dobbiamo dire grazie ma veramente grazie così come per dire non è una cosa che ci meritiamo quando un uomo non farebbe mai una cosa del genere un uomo si prende il merito e anche di più non sta a dire ah ma non me lo merito ah ma no no è uno stereotipo della donna quello di ringraziare come se fosse caduto dal cielo e lei non avesse fatto nulla e quindi vedere nella prima parte le Barbie che dicono certo me lo sono meritato ho lavorato ho studiato sodo ho fatto e quindi me lo sono meritato prendersi quello che è il proprio merito mentre la seconda parte quando i Ken avevano già contagiato la mente e vedevi la Barbie che diceva oh grazie ma tutto per me mi sono meritato io ma che ah veramente non ci posso credere che io e lì ti rendi conto che la prima parte del film è servita per far capire quanto la seconda parte non fosse corretta non sono corrette nessuna delle due e quindi questo la Barbie vista come stereotipo di fisicamente il pobre Barbie che è sempre stata criticata dalle femministe per il suo corpo per le cose e invece il senso della Barbie doveva essere tutt'altro e il senso della donna deve essere tutt'altro e dopo tutto questo spero di non avermi annoiato spero di essermi spiegata su quello che è la mia visione di questo film che mi ha mi ha risvegliato comunque delle cose che so già ma me le ha rese molto più più vivide presenti e il finale bellissimo lei che non accetta di tornare in nessun mondo incantato dove era tutto perfetto ma decide di vivere in questo mondo imperfetto per cercare di migliorarlo e il messaggio del film è bisogna lottare uscire dalla propria zona di comfort per lottare per riuscire a migliorare le cose e con questo vi auguro una buona visione se andate a vederlo e grazie per avermi seguito mettete un like iscrivetevi al canale mi raccomando per favore se volete commentate commentate non non abbiate paura di commentare nel bene nel male certo vabbè in maniera diciamo educata però commentate sotto i video mi piace vedere i commenti finché riesco a rispondere riesco a sentire a vivere riusciamo a comunicare la cosa più bella per cui faccio i video per avere il contatto anche con voi e mi piace fatemi sapere voi invece cosa se siete andate a vedere il film e cosa ne pensate grazie ancora un bacio ciao ciao